600 persone prenotate per visitare Palazzo Naselli Crispi sabato 15 e domenica 16 maggio in città Ferrara e altre 180 per le visite all'impianto idrovoro di Codigoro nella sola giornata di sabato. Sono stati davvero in tanti gli appassionati di arte e di cultura che si sono prenotati in occasione delle giornate del FAI per visitare due capolavori dell'arte e della tecnica di proprietà del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara a partire dalla sede amministrativa di Borgo Leoni che riapre le porte dopo gli imponenti lavori post-sisma. Il palazzo viene costruito tra il 1533 e il 1536, ovviamente il tutto comincia prima, comunque è su commissione di Giuliano Naselli, l'architetto che l'ha progettato è Girolamo da Carpi ed è molto importante perché è un pezzo unico dell'architettura civile ferrarese del 500. Girolamo da Carpi ha in questo edificio, si ispira all'antichità classica, si ispira all'architettura romana che vede probabilmente nei suoi viaggi precedenti al 1530 a Bologna, a Milano, a Milano con le architetture del Bramante, quindi viene a conoscenza di un'architettura diversa da quella di Ferrara, della città estense che è la sua città e quindi la mette qua in pratica, per cui abbiamo questa bellissima corte di ispirazione chiaramente classica, abbiamo anche una facciata molto bella. A far ammirare con visite guidate l'originale cortile interno e le meravigliose stanze dai soffitti affrescati della dimora cinquecentesca, a pochi passi dal castello estense, i volontari del FAI. Mi ha sempre appassionato il mondo dei musei e della cultura, ho una laurea nel settore e di conseguenza è stata una scelta abbastanza naturale. e questa mattina il nostro ruolo sarà di accompagnare i visitatori, l'accettazione, di spiegargli che cos'è il FAI. Questo palazzo non lo conoscevo, avevo visto i lavori da Borgo dei Leoni e quando sono venuta la prima volta per il sopralluogo sono rimasta davvero stupita da quanto sia bello e questo restauro è veramente meraviglioso, quindi insomma è una grande opportunità per vedere un bene che è in pieno centro città ma che pochi conoscono. Un viaggio alla scoperta degli innumerevoli tesori nascosti del nostro paese. L'Italia è piena e devo dire che proprio il luogo in cui ci troviamo è uno di quelli, è un palazzo ad uso, uffici ad uso di rappresentanza ma sostanzialmente privato e quindi il fatto che il consorzio Bonifica Pianura di Ferrara abbia voluto proprio con noi aprire per la prima volta dopo questo bellissimo ciclo di restauri è per noi anche un grande piacere e un grande onore, una grande responsabilità che ci lega al consorzio in particolare anche per unità di intenti sul territorio, sul modo di vedere la fruizione e la valorizzazione dei beni che non sono per il FAI solo ed esclusivamente beni monumentali ma anche beni ambientali, beni paesaggistici, beni importanti per la storia del territorio come per esempio l'impianto idrovoro di Codigoro che è davvero uno dei punti fondamentali della storia recente dell'acquisizione delle terre al mare.